ciao a tutti ragazzi oggi voglio mostrarvi questa box da parte di malo che realizza prodotti comunque per la nascita e per la prima infanzia ora vi faccio vedere cosa c'è all'interno della box allora come prima cosa troviamo questa targhetta che si è scritto hello world col nome la data di quando nasce e pesa la lunghezza poi troviamo innanzitutto questo baglino in tessuto ed è davvero carinissimo perché comunque ho scelto questo color verde petrolio e poi questa mussola che è davvero gigante che è davvero morbidissima e poi ho scelto questo simpatico animaletto il bradipo e devo dire che comunque la mussola molto utile per il cambio pannolino come lenzuolino insomma si può usare in diversi modi e quindi ragazzi ho scelto questo set box come regalo nascita ma io comunque lo userò per me ovviamente e quindi ragazzi vi consiglio andando a seguire malo dove comunque troverete tantissime box nascita comunque per la prima infanzia potete quindi acquistare ringrazio ancora malo per questi articoli e ci vediamo al prossimo video